Senatore Crozi, in questi giorni si sta parlando della possibilità di separare la rete dalla compagnia Telecom. In questo momento è di proprietà tutta dell'azienda italiana. La Lega Nord che cosa invece propone? Noi siamo favorevoli in quanto da anni chiediamo che finalmente ci sia la separazione fra la rete fisica e l'azienda per avere una concorrenza fra i vari operatori più regolata che andrebbe a beneficio del cittadino, a beneficio degli utenti. Da tempo lo chiediamo. Oggi in Commissione al Senato avremo l'audizione del Presidente di Telecom Bernabè il quale proporrà che questo nuovo scorporo, che è così chiamato, noi vigileremo affinché non succeda, come spesso in Italia, che qualcuno vuole creare una società laterale, una cosiddetta bad company, in cui mettere quello che non va bene per tenersi la ciccia, ovvero sia dove si guadagna. Noi vigileremo su questo. Questo quali benefici porterebbe al cittadino? I benefici sarebbero che finalmente anche nel nostro Paese ci sarebbe una concorrenza leale fra i vari operatori telefonici, cosa che oggi non c'è. La riprova è la multa che è stata commissionata in ambito europeo a Telecom di 100 milioni di euro per concorrenza sleale. Questo la dice lunga su come le cose in questo momento vengano gestite nel nostro Paese. Questo passaggio fondamentale, che ripeto la Lega chiede da anni lo scorporo della rete, la separazione della rete, è un passo importante. È chiaro che bisogna vigilare su questo e noi lo faremo in maniera concreta.